Hai finito le scuole superiori, sei al bivio, sta a te scegliere. Pillola azzurra, ti fermi qui, inizi a lavorare e entri nel mondo degli adulti. Pillola rossa, continui l'avventura, vai all'università e accetti le nuove sfide. Bada bene a quello che fai, ne pagherai le conseguenze. Pessima scelta. L'ingresso nella grande macchina universitaria è segnato da un momento fondamentale. Una sorta di rito di passaggio. La perdita della propria identità. Sì perché tu vai, paghi, ti iscrivi e ti trasformi. Diventi un numero. E così entri in un mondo popolato da numeri. Matricole, voti, date, scadenze. Media ponderata. Insomma, numeri. Morale della favola? Se decidi di fare l'università, ricordati la calcolatrice. Morale della provvedorizola. Comil scusa 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 scoring scusa 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 a Ti dà fastidio se studio? No, no, tranquillo, tranquillo, scusa. Ehm, scusa.